Luca Spierson da Promoses Scorsonazionato la prima parte di stagione il brasiliano Piaçon nel Fulham Ho fatto tutto in championship in questi anni in Inghilterra in San Paolo che però intanto è stato importante per la promozione come si vogliono bene ma come vi volete bene voi due mini, king si, si, io lo sto facendo contro Luca Spierson Chiu Sposta Mendi Tusa Traore Raffaella Traore Depai Traore Morella Mendi Dessertoi dagli Adesso Giorginio ora parla con Giroud e uno la scoglita Marcelo Morella Aguarra Bella giornata Mendi Oh è deciso si attaccava fino all'ultimo Christensen oppure frenare O di crampi per Christensen direi che hanno finito adesso no